salve a tutti benvenuti a questa serie su UFC 5 con il nostro bomba man non so se avete visto la scorsa live si io ho cambiato i pantaloncini questi sono ignorantissimi e sono bellissimi il nostro bomba man è pronto per continuare la sua carriera evoluzione combattente mosse che cosa si è evoluto non lo so ok aspetta scusate un attimo mosse cosa si è evoluto sembra tutto ormai è tutto a posto va bene offerta vediamo il prossimo match abbiamo solo questo qua e qua vabbè sarà il solito la serie quella la insomma è molto basso 4 settimane forma iniziale bassa i rimanenti 1 io non posso rifiutarlo accetto o rifiuta? io accetto no qua non so il bomba man non 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 rifiuta mai nulla ora 4 settimane e andiamo ora signori io direi intanto un bello facciamo un bel po' di sparring un po' di sparring giusto per ok giusto per box mettiamo sulla box qua i pugni i pugni termano sfide sparring vediamo un po' alla sfida un po' corpo al corpo ok 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 ah l'avevo presa va bene a sesta più ganchi ok ok calma bene bene più rischio è una mazzalla questa ok è andato scrive colpi ok ok oh 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 ok 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 2 però dali si colpi dai che fa? fai la ballerina? oh ok post e ora sparring libero! eeeh mo son cavoli tuoi mo son cavoli tuoi adesso mo son cavoli tuoi mo son cavoli tuoi vai no 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 stai in piedi stai in piedi vai oh wow perfetto gancio principale livello 3 eeeh minchia l'ho ammazzato a posto scusgo va bene va bene e ci vado troppo forte coi pugni coi pugni coi pugni ci vado troppo forte va bene e allora continua andiamo sarò andato in forma 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 che come mi sarà salita la forma? mmm un pochino mi faccio mi faccio un altro sparring si si faccio un altro sparring ah no è ancora non si è box a livello 2 ok va bene vai di box vai di box vai di box dai 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 si prepara al match ok ora vediamo un po' che facciamo cambia guardia con R eeeh 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 ok ok adesso la sesta più montana ok r u allo ok 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 a posto sette colpi qualsiasi perfetto ooo va bene p... ok eeeh a posto ed... dai discendenti come ti fa forchamite Porca miseria L1 Allora Let L L1 Niente 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 Io non so perché I discendenti non me li fa Ok Qua io rischio di ammazzarlo comunque Ok 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 No no alzati Alzati per favore Vabbè Io rischio di ammazzarlo Ho questo Però Io Va bene Ok forma attuale media Punti evoluzioni 50 50 Ah perché non li ho Non li ho spesi Non li ho spesi Io ho tipo un botto Ferma un attimo Allora Fermi Fermi Allora Evoluzione combattente Vediamo un po' come Attributi Oh I attributi Allora Allora Forza corpo Toleranza Le fedite Io potrei Potenza Allora Velocità pugni Ovviamente non disponibile 1.8.3 Tutti I piedi Devono essere Almeno a due stelle Ok Vabbè Allora Ok 1 2 Ok Ora qua posso Ammazzarlo No no Si potrei Ma non c'ho più i punti Perfetto Mentre Qua Mi rimangono Questi Va bene Io appunto Alla potenza E soprattutto Velocità dei punti Mosse Allora Mi sono I ganci Mi stanno Perfetto Ah vabbè Ok Comunque Può essere Che era contrario Ah Era contrario Ecco Perché Non i discendenti Comunque Allora Ok Allora Aumentiamo il clamore Ho 15 punti A disposizione Promozione Obbligatoria Vabbè Social media Posso fare altro Va bene E Indietro Ora Io direi In una settimana I ultimi 5 punti Ci faccio poco Facciamo una cosa Per evitare Malus Intanto Mi faccio Sta promozione Questa qua Ok Poi 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 Sparring Sparro ancora Parte da infortuna Niente L'ho ammazzato Mi dispiace Vabbè E allora Muay thai Ti va di calci Si va di calci Signori Allora Sfile sparring Copriti dai colpi Uno Perfetto Poi C'era un colpo Ah Un colpo Qualsì Quindi Aspetto E Un altro Furo Che Va bene Poi 7 a 3 C'è un caccio Del colpo Ok Allo 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 Oh Allo Però Allo 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 Un po' Allo Porca Perché Ok Ok A posto Finalmente Poi Senta delle gomitate Come ti fa? R2 Ok Oh Ah forse è questo? Gomitate R2 Non me lo fa Ah Ok Uno Tre Quattro Cinque Posto Oh E in chiaro Adesso era aperto Adesso era aperto Adesso era aperto E niente Però Quanto abbiamo fatto? Dodici Abbiamo fatti solo quattro E sono rimasti Dodici Va bene E continuo Va bene La forma è sempre media Eh Not a good thing Not a good thing Però vabbè Clamore Ammettiamo Clamore 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 Na 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 Promozioni Eh Ah scriviamo sui social Fare gli ultimi dieci Ok Bom Bom Bomba Man Allora Ora Torniamo indietro Settimana seguente Sì E adesso Uno sparo Invito qualcuno Invito te Allora Tu che mi Calciano tante principale Gabbia No Il laterale R1 No Aspetta Calcio Di tallone Rotante Allora Usa un attimo Calcio Di tallone Rotante Questa Non ricevere sconti Migliora Il vostro rapporto Io come cazzo Devo migliorarli E X Cerchio Poi X Non ho capito Vabbè Proviamolo Proviamo Ok Questa fa Faremo se Sblocca Ottieni punti Evoluzione Usando Contra la mossa Sta cercando Di imparare Contro il partner Ricorda sempre Le tenele guardie Ok 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 Ah Ok Bella Bene Boom Posto Fatto? Già fatto? Ho imparato? Ho imparato Allora Devo dire Il calcio È un po' più complicato Rispetto Come Negli scorsi UFC Che ho giocato io Ho punti Evoluzione Più 5 Possa Imparata Più 1 Formula attuale Sempre media Porca Sì Vabbè Ok Continua 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 Ora Andiamo Alla Voglio Aspetta Fai un minuto Funzione combattente Questa era fra i calci Mosse Tra i calci Era una Ginocchiata Ginocchiata Vuoto Calcio le gambe Ingegivale Era X Cerchio E poi Io ho X Allora Calcio Vuoto L2 L1 L1 X No Infrontale Niente C'era Una No Non mi Questo Nel terreno Principale Questo No Affrontare Al corpo Scusate Io Devo Vedere Gnocchiata Al corpo Niente Gnocchiata Al corpo Calcio Le gambe Calcio Le gambe Vuoto 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 Questo Vuoto Vuoto Stanno tutti Vuoti Ma non c'è Quello Che dico io Calcio Con l'alternato Cerchio X A meno Che non Me l'abbia Già Colpi Rot Aspetta Aspetta Forse Fai colpi In rotazione Colpi In rotazione Eccolo 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 Però porca miseria Questo è Questo Eccolo In uso Ok Ah Quindi non lo prende come calcio Prende come colpo In rotazione Ah Oh Forse ho capito X Cerchio Dà la rotazione E l'X Fa il calcio Ah 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 Ok Ho capito La logica Il girato principale Vabbè Ok Va bene No Puoi fare Sparring Posso fare Clamore 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 Nanananana Scrivo sui social E vabbè Fatto tutto Quindi Fai Alla Settimana Seguente Potremmi Allora Prima di mai A tuo video Infortuni Devi rinunciare A affrontarti Puoi incontro Ti utivo All'ultimo minuto Con un overstop Perfiri aspettare Whitehead Allora Allora Quindi Accetto La sostituzione All'ultimo momento O Aspetta Ma Sostituzione All'ultimo momento Dai Ci vuole Bisogna Combattere Combatter Allora Muay thai Se va De muay thai Allora Sparring E avanti Spera Colpi Un kickbox Questo Allora Allora Ok Ho capito Il manco Ok Questa combinazione Di calci Allora Allora Ok 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 A posto Poi Toppi dei colpi Uno Dato a mamma Due Dai Hai Hai rotto Il cazzo A posto Terza Comunicazione Ok Ci arrivi La terza Comunicazione Tu Ok Ti sei arrivato Ora Sparring Ti sei arrivato Allora 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 Ok Sparring Di me Di me Ho mai Abbandonato Pure Tu Ti prego Che non Posso fare Quelli di Prestring Ti prego Allora Ok Sparring Inghian Fortunato Senti Andiamo al sacco Andiamo al sacco Almeno Il sacco Non ci Infortuna Allora Dai Ok Allora Cambio E E Ok Poi Che sta Dei calci Aspetta Aspetta Allora Allora Poi Unicato Allora Allora Ok Oh Allora Poi Un calcio Siamo combinazione Da tre mosse Allora Ok Ok Oh Oh Dai Oh Porca Mi Dei 8 Minazioni Da 4 Colpi In uno Un pugno Allora 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 Ok Allora Porca Niente Non sono riuscito A fare Tanto Queste Combinazioni Difficili Certe Combinazioni Allora Allora Forma Massima 31 punti 31 punti Notali Di Di evoluzione Allora Mi rimangono 15 punti Tretimana Intanto I need I need To evolve Potenza Calci Velocità Calci Posso Allora 15 e 15 Facciamo una cosa 1 E 2 Miglioriamo Calci Tanto Velocità Pugni Ce li ho Ok Ora Un punto Fatto Vediamo di clamore Perché non posso fare altro A meno che Aspetta Sono filmati Sono 30 Va bene Allora Promozioni E va bene Ok Va bene E 5 punti Non ci facciamo nulla Quindi dai Siamo la settimana E si fa il match Signori Contro Contro questo Che non so chi sia Vediamo un po' Allora Ma che Questo Che chiacchio è questo Murilo Melo Ma è 91 E' il Tino Tino Allora Bella Preto Ora Calma 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 che... nooo e al chaty posto calma bello calma calma preso uh preso calma 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 bello bello calma 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 che si è certo calma e qual l'hai sentito? qual l'hai sentito? qual l'hai sentito? calma 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 rialzati ok bene ora preso è molto non è un fenomeno ma combatte molto coperto e questo compica un po' le cose è molto sgorbuli poi questi take down che tanto ok preso preso ancora preso preso ancora preso ancora e qua giù qua oh e qua qua ora li prendo ora li sente tutti li sente tutti male li sente tutti mo mo li sente tutti mo li sente tutti oh oh ciao posso fare il prezzo soltanto io? boh eh sì eh sì poi questo qua è preciso questo qua allora dai ok io c'è casco no aia calma preso preso calma 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 Ora il corpo Perché comunque Perché il corpo comunque Ti taglia il fiato Mettiamolo al corpo Danneggiamo comunque il fiato Ok No Ecco Grazie Andiamoci con la calma E' il difficile di andare qui Ok Ti alza Ti alza Oh Oh Ok Cosa No Calmi Calmi Eh sì però Sto andando ora proprio Sto andando uno sporco Tutto di clinch Oh giù No 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 Ok Alza No Ok Calma Ok 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 Torniamo su Stamina Non indifferente Ok E' Qua Qua lo senti Guardia Salta Posteri Alta Rialza Ok 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 Più che combattere lui Sta cercando Di non far combattere me E dai che si rifinisce Oh E alè L'ho aperto in due Il nostro Bomba man L'ha letteralmente Aperto in due Questo qua Mi c'è voluto un po' Perché questo Il combattere è molto Difensivo Molto chiuso Il terreno della guardia Molto alta Quindi Andare a segno Non era facile Con i colpi Però Alla fine Poco alla volta Lavorando anche Diciamo Lavorando al corpo Poi Boom Oh Ciao E E vabbè E l'è andato L'è andato Ah porca di te Ho saltato la programmazione Va bene Comunque K.O. Tecnico Secondo round Quanto ho perso Longevità Almeno 0,9 Non so Non so Quali sfide Vanno avanti Direi Allora andiamo Menù E Continuiamo Dai Dai Quanto siamo Ah no però 37 33 minuti Sicurazione Fino Alla prossima Offerta Prossima Offerta Che direi Valuteremo Valuteremo Alla prossima puntata Qui Vanno Mi No Zambo Rai